Per raccontare una super storia, questa è una storia che si forma, si riuscita a trasformare con la parte di città, per raccontare una storia che si fa, e quindi ritornare con la parte di città, per raccontare una storia, per raccontare una storia, per raccontare una storia che si fa. Grazie.